Il Governo accelera su accordi e misure contro il caro energia. Dal 1 di maggio, nuove regole per aria condizionata e riscaldamento. Gabriele Flamma. Nuovi fornitori dall'estero e risparmio di energia in patria. È la strategia parallela del Governo per superare la dipendenza dal gas russo. Sul fronte risparmi si parte dal 1 maggio con la pubblica amministrazione, comprese le scuole. Il decreto bollette fissa la temperatura minima dei condizionatori durante l'estate a 27 gradi. Più sotto non si potrà andare, ma con 2 gradi di tolleranza, che di fatto portano il valore rilevato a 25 gradi. Le regole sono in vigore fino al 31 marzo e dunque riguardano anche i termosifoni. In inverno, temperatura massima a 19 gradi, con più 2 gradi di margine fino a 21 effettivi. Appena un grado in più o in meno rispetto ai limiti finora in vigore, ma con un risparmio stimato di 4 miliardi di metri cubi di gas all'anno, sui 29 miliardi che importiamo dalla Russia. Si punta a coprire buona parte della fetta restante grazie a nuove forniture, soprattutto dall'Africa. Stamani il ministro degli Esteri di Maio e quello della transizione ecologica Cingolani sono partiti per Angola e Congo con l'obiettivo di siglare accordi energetici. E proprio l'energia è la voce che pesa di più sulle nostre importazioni, aumentate di quasi il 45% a febbraio. Il 10% dell'incremento, rileva Istat, è dovuto al gas naturale. Il 10% dell'incremento, rileva Istat, è dovuto al gas naturale.